Un'occasione per un'iniziativa di solidarietà con la GB e l'FC Bari? Un'occasione colta al volo e che mi ha fatto molto piacere, questa giornata di riflessione, devo dire anche alla luce di quello che è stato detto dai presenti in questa riunione. Noi dobbiamo essere vicini, dobbiamo perché ce lo impone il nostro ruolo di rappresentanti dello sport e del calcio e della massa di tifosi che ci segue e deve ovviamente capire che sono importanti anche le persone che a volte non possono essere sotto il mirino. Spostandoci un attimino sul campo, la testa è già al prossimo impegno contro il Trapani? La testa e l'impegno del Trapani è già da sabato sera scorso, quindi noi dobbiamo giocare partita per partita, lo dico da un po' di tempo, pensando che sia una finale ognuna di quelle già fatte e le prossime sino all'ultima. Sarà un campionato difficilissimo, lo avevamo subodorato, già al passaggio al giro di Boa c'erano parecchi pretendenti che stavano scaldando i motori, qualcuno è già risalito, qualcuno ha difficoltà su uno. Non è facile il campionato di B rimanere in concentrazione e in condizione per tante partite come invece avviene per là. La sua presenza qui è stata utile anche per approfondire la questione stadio? No, la cooperazione stadio è un altro discorso, sarà affatto nei termini e nei tempi giusti. Ci può dire qualcosa in più su questo? La settimana prossima faremo qualcosa di importante, cercheremo di dare supporto a tutti gli affamati di notizie.